Ciao a tutti, oggi prepareremo il semifreddo alla crema paradiso. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 8 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca, latte condensato, vanillina, biscotti, latte, per decorare latte condensato e granella di mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziare la ricetta mettendo all'interno del boccale la vanillina, posizionare la farfalla sulle lame, versare la panna che deve essere ben fredda messa per 45 minuti in congelatore e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente, aggiungere il latte condensato ed amalgamare bene con la spatola. Riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo foderato uno stampo da 24 centimetri con apertura a cerliera sul fondo con carta da forno e sui laterali con un foglio d'acetato. Adesso metteremo i biscotti bagnandoli nel latte. Con l'aiuto di un cucchiaio compattarli bene. Riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso sia la base che la crema dal frigo, comporre il semifreddo. Versare sulla base di biscotti la crema e livellare bene. Posizionare in congelatore per sei ore, successivamente decorare con latte condensato e granella di nocciole e riporre in congelatore per altre due ore. Semi freddo alla crema paradiso. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!